E' stato illustrato a Palazzo Cavalcanti il lavoro svolto in un anno di turismo musicale ideato e prodotto da Boutique, impresa sociale specializzata in turismo musicale, realizzato nell'ambito del progetto Napoli Città della Musica, in collaborazione con il sostegno dell'Assessorato al Turismo e le Attività Produttive del Comune di Napoli e il coordinamento dell'Ufficio Musica del Servizio Cultura del Comune. Da giugno a ottobre 2023 Turismo Musicale a Napoli ha proposto un calendario di incontri dedicati agli addetti ai lavori e di appuntamenti per cittadini e turisti, sostenuti anche dal Ministero della Cultura tramite il Fondo Unico dello Spettacolo tra i progetti speciali 2023 Sezione Musica. Da novembre 2023 a oggi la Rete dei Comuni Musicali in Italia ha continuato a lavorare per la creazione dei percorsi turistici. A presentare i risultati di questo grande lavoro e il futuro del turismo musicale, tra gli altri, l'Assessore al Turismo e le Attività Produttive Teresa Armato e il Delegato del Sindaco di Napoli per l'Industria della Musica e dell'Audiovisivo Ferdinando Tozzi. Noi abbiamo aderito a questa rete insieme con altre città italiane, abbiamo ospitato qui l'anno scorso la rete e sottoscritto qui una intesa con questi comuni e abbiamo poi nell'ottobre dell'anno scorso organizzato anche la terza edizione del Festival del Turismo Musicale. Uno dei tanti obiettivi di Città della Musica è fare industria musicale che significa anche incentivare un turismo dedicato alla musica e per farlo bisogna avere ovviamente grandi eventi, grandi artisti e Napoli per la prima volta è diventata la seconda o addirittura per alcuni la prima piazza per i live in Italia. Una stagione di grandi concerti di cui ci parla il presidente di Asso Concerti, Bruno Sconocchia, e il consigliere di Asso Musica, Giuseppe Gomez. Avete ospitato spettacoli di grandi artisti, napoletani e non napoletani, questo è importante. Credo che questo possa in qualche modo contribuire anche esso a dare di Napoli un'immagine diversa in Italia e nel mondo. Napoli è diventato un punto focale di attenzione non solo per la musica nazionale ma anche per quella internazionale. Prova ne sia che l'anno prossimo ci sono già otto concerti fissati, ce ne sono due, di cui neanche sotto tortura rivelerò il nome, che si annunceranno presumibilmente intorno a settembre. Quindi si arriverà a 10 concerti al Maradona per il 2025, che è chiaramente un successo enorme ed è un numero di concerti mai visti in un solo stadio al sud.